Benvenuti a persone, abbiamo oggi una nuova puntata, è una puntata molto diversa da quelle che abbiamo affrontato nelle volte precedenti, andiamo su un tema di grandissima attualità con un ospite che conosce il tema in quanto è un legislatore, è un parlamentare che ha seguito tutta la vicenda delle vittime della strada, tant'è vero che è anche il primo firmatario della legge che istituisce la giornata nazionale in memoria delle vittime e quindi abbiamo sicuramente belli argomenti. Io presento il nostro ospite Emiliano Minucci che, ripeto, è parlamentare e che su questo tema si è speso veramente molto. Vogliamo partire proprio da questa giornata, dalla sua istituzione e poi andiamo sulle questioni anche delle vittime, la quantità, le morti eccetera. Intanto la ringrazio per l'invito e per darmi modo di entrare nel merito ancora una volta, vorrei dire, ma non basta mai, di un aspetto della vita, del vivere civile, diciamo che spesso è un po' trascurato, anche se passiamo, trascorriamo lunga parte della nostra giornata di cittadini, di utenti della strada, appunto come utenti della strada e quindi come automobilisti, come pedoni e quant'altro. E diciamo sulle nostre strade la strage costante che si determina anno dopo anno sembra quasi essere data per scontata anche dai mezzi di informazione, i quali si limitano molto spesso a registrare, a prendere nota, ormai con una certa assuefazione del numero delle vittime, del numero degli incidenti, di morti, di feriti e quant'altro. Negli ultimi anni, debbo dire su impulso del governo, ma anche per azione autonoma del Parlamento, qualche passo in avanti l'abbiamo fatto, abbiamo fatto qualche passo in avanti importante, sotto un duplice profilo, un profilo di merito di fatti specie penali, penso alla legge sull'omicidio stradale, che è stato un passaggio fondamentale, importante, per sollevare il tema della giusta punizione e della giusta deterrenza nei confronti di chi utilizza un mezzo di trasporto come un'arma puntata contro gli altri. molto spesso ci è stato detto, avete fatto del giustizialismo, la legge sull'omicidio stradale produrrà chissà quali disastri da un punto di vista della punizione nei confronti di poveri sventurati che hanno appunto la sventura, la sfortuna di incorrere in un incidente, nel causare un incidente mortale. Ecco, è stata una distorsione della verità. La fatti specie con tutti gli addentellati, il corredo di norme, la fatti specie di reato, di omicidio stradale, in realtà ha un'altra finalità, quella di punire condotte effettivamente ingiustificate e ingiustificabili, quella di far fare un salto di qualità alla legislazione in modo di rendere effettiva, certa e concreta la pena per chi ad esempio provoca un omicidio stradale sotto l'effetto di stupefacenti, per abuso di alcolici o per comportamenti di guida assolutamente incompatibili con uno stato di normalità, vorrei dire, cioè per esempio per correre a 150 km orari una strada dove il limite è di 30, è di 40. non vi è quindi un accanimento nei confronti del fatto fortuito incidentale che può capitare a qualsiasi automobilista. Infatti volevo chiederti proprio questo, perché fino a poco tempo fa era sospattuto omicidio colposo, esattamente, quindi dove la disgrazia vuole che... E quella fattispecie resta. Quindi qual è la differenza tra i due? La differenza è quella che appunto adesso dice, cioè il fatto che l'evento fortuito può accadere a chiunque, anche laddove vi sia stata una giusta attenzione o quant'altro, anche una semplice distrazione, ma nell'ambito di un comportamento, come dire, socialmente non pericoloso. Laddove invece, diciamo, ciò che era insopportabile nella legislazione precedente a questa, a quest'ultima, era che non venisse punito chi si metteva alla guida di un motociclo, di un'automobile o quant'altro, veramente in una condizione, diciamo, di non piena capacità dei propri mezzi. Mettersi alla guida sotto l'effetto di stupefacenti, mettersi alla guida dopo aver bevuto in modo esagerato, cioè con tassi alcolemici insopportabili. Ecco, tutto questo andava in qualche modo punito, in modo più rigoroso. Vede, noi ci siamo confrontati con le associazioni dei familiari delle vittime della strada. Ho scoperto un mondo, in qualche modo lo siamo un po' tutti, familiari o amici di persone che hanno perso la vita sulla strada, ma vedere specialmente le mamme, i papà, raccontarci di ragazzi uccisi per strada, da persone che avevano questo tipo di comportamenti. Volevo invitarti proprio a commentare questa grafica che è fonte Istat, quindi ufficiale, si riferisce a tutto l'anno 2016, che nonostante ha avuto una riduzione, una piccola riduzione rispetto all'anno precedente, parla di 3.283 morti, che secondo la statistica delle cause di morte in Italia, sta entro le prime 30 cause di morte. Una volta che tu togli i tumori, l'ictus, gli infarti, arrivano cose che sono sui 4.000-5.000 e arriva questa con 3.000 e 2.000, se non sbaglio è al 27esimo posto. Il tema che dobbiamo porci è continuare il trend di discesa, andare avanti, perché pochi sanno, se non chi ha studiato la materia, che 20 anni fa eravamo a 7.000 morti l'anno, quindi passi avanti ne sono stati fatti. Sotto tanti punti di vista, e non vorrei dimenticarne uno molto importante, altrimenti rischiamo di non dire le cose essenziali, aver fatto, aver realizzato nel corso degli anni delle automobili, ad esempio, più resistenti, agli urti, agli impatti. Quindi ci sono stati tutta una serie di programmi messi in atto che hanno consentito quel trend di discesa. Dobbiamo tenere la guardia alta, sai perché? Perché per esempio le statistiche e anche chi si occupa di controllo sulle strade, di sicurezza stradale, ci dice che l'utilizzo smodato degli smartphone sta diventando più pericoloso per certi versi, addirittura di cause, quelle che dicevo prima, ad esempio l'abuso di sostanze stupefacenti. Restano molto elevati quei tassi di incidentalità per quei motivi, ma l'utilizzo dello smartphone si va facendo sempre più pericoloso. E su questo dobbiamo augurarci che la tecnica e la tecnologia vadano avanti, cioè dei meccanismi, degli strumenti che consentano effettivamente, diciamo, o meglio la dico a rovescio, che non consentano a chi guida di utilizzare il telefono, diciamo, lo smartphone, se non per ricevere e per fare delle telefonate. È una battaglia non facile da vincere. Esatto, dicevo, se lo si può fare sotto il profilo della tecnica, prima o poi ci si arriverà tecnologicamente isolare il posto del... È fortemente impopolare questa cosa. È fortemente impopolare. Uno se poi deve utilizzare invece lo smartphone, deve mandare i messaggi WhatsApp, diciamolo chiaramente, o rispondere, accosta, ferma, si ferma, fa dieci minuti di pausa, scrive, però pensare di poter scrivere o leggere, stando alla guida, magari anche su strade a scorrimento veloce e quant'altro, è veramente paradossale. È rischiosissimo, è rischiosissimo per se stessi e per gli altri. E quindi questa tabella che ci fa vedere effettivamente di che cosa stiamo parlando, sembra, come dire, il resoconto, la cronaca di una battaglia campale, 3.000 morti, 249.000 feriti, eccetera. Ma la cosa, qui volevo fare un discorso, ma lo faremo subito dopo, di tipo economico, perché chiaramente c'è un incidente. Ma la cosa che mi ha colpito, questo incremento che abbiamo di morti di persone che vanno in bicicletta e di persone che stanno sui ciclomotori. Abbiamo un incremento rispetto all'anno precedente del 10%. E io vedo che, spesso si legge anche delle cronache, che è proprio l'eccessiva velocità dell'automobilista, quando sulle strade tu hai una fila di ciclisti o hai un ciclista che magari non ha nemmeno segnalato bene, ovviamente con i lampeggianti e la sua presenza, e vedere quel numero, 275 ciclisti ciclisti che sono stati praticamente investiti. Mi ha fatto una certa impressione, perché sicuramente fa impressione e secondo me solleva due questioni. Intanto c'è un tema, noi l'avevamo pure posto in commissione, io ho fatto parte in questi anni della commissione trasporti, per questo mi sono occupato anche di queste cose. C'è un tema relativo alla tutela del ciclista, spesso dei gruppi di ciclamatori, io direi in un modo duplice dovrebbe esserci più tutela nei loro confronti, spesso anche maggiore attenzione da parte dei gruppi di ciclamatori rispetto al traffico complessivo, questo dovrebbe essere più frutto di un ragionamento culturale complessivo del Paese. Però c'è un tema in più, su cui invece chi utilizza la bici ha ragione da vendere, che è quello di dotare questo nostro Paese di una rete di piste ciclabili seria e vera. Questo è il tema di fondo, tanto è vero che per questo noi abbiamo realizzato e finanziato, abbiamo realizzato il progetto e finanziato l'opera e ci auguriamo che venga fatta il prima possibile, io ho un appello che faccio all'amministrazione capitolina, l'opera del Grab, cioè il grande raccordo anulare in bici, sono 16 chilometri che praticamente circondano di fatto, sono 16 milioni d'euro per un perimetro molto più ampio, sono 16 milioni d'euro per un perimetro molto più ampio, che circondano in effetti le mura aureliane, cioè la parte centrale o semicentrale di Roma, già in larga parte realizzata, esistente, va solo messa a norma, gli attraversamenti veri e propri, le parti più critiche per cui si richiedono finanziamenti più consistenti non sono tantissime, bisogna procedere rapidamente, ci sono i finanziamenti, ma l'abbiamo fatto così come abbiamo finanziato per un complessivo dato di 91 milioni d'euro quattro grandi infrastrutture nazionali ciclabili, una molto bella, una trasversale del nord, praticamente da Torino a Venezia, la pista ciclabile, la ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, che corre lungo i tracciati dell'Acquedotto Pugliese, cioè per la prima volta questo governo e questo Parlamento hanno non soltanto legiferato facendo la nuova legge sulla mobilità ciclabile, diventata legge poco prima che si sciogliessero le camere, ma hanno messo addirittura delle risorse, quasi 100 milioni d'euro su scala nazionale per finanziare queste opere così importanti. Roma avrà una centralità, così come la ciclovia del terreno che arrivando dalla Toscana fino a Civitavecchia entrerà dentro Roma. Io credo che quando leggiamo quei dati dobbiamo porci l'esigenza di rendere più tutelata come avviene nei paesi del nord Europa, di avere maggior tutela per chi ha il grande merito di utilizzare la bici per muoversi, perché è un merito duplice, fa bene alla salute propria, fa bene alla salute collettiva. Si, lo pensa gli austrieci che sono i nostri confinanti, hanno un uso della bicicletta e uno dice ma come l'Austria non è tutta montagnosa, nonostante questo c'è un uso impressionante della bicicletta, quindi non bisogna solo andare in Olanda per verificare una cosa di questo esattamente. Volevo adesso con te, perché poi la nostra osservazione ovviamente è quella della velocità che richiede interventi molto particolari, ma era questo il costo economico non solo sociale, affettivo delle morti, ma il costo economico dei feriti su 250 mila, 175 mila, 791 incidenti, che significa una mole di soldi enorme, perché le compagnie di assicurazione che hanno già a che fare con i furti magari studiati, hanno anche qui un grande affare, quindi anche questa lamentela che tutti facciamo, le assicurazioni sono molto care, è chiaro che se non si riesce a far abbassare questo numero probabilmente continueranno a crescere piuttosto che a diminuire. Credo questo, vale sotto il profilo delle assicurazioni, come dicevi, vale sotto il profilo dei costi sul servizio sanitario nazionale, perché anche questo è molto spesso, la politica in questo deve essere lungimirante, investire qualche risorsa in più in sicurezza stradale significa recuperare quelle risorse in spesa sanitaria, molto spesso la prevenzione in questo caso può essere d'aiuto, può essere vista come un costo nell'immediato, ma nel medio periodo produce un ritorno anche da un punto di vista economico. Ma come facciamo a scongiurare l'ipotesi, la convinzione che hanno molti cittadini, che i comuni fanno cassa con gli autovelox? Perché molto spesso questo lo si legge, ci sono comitati di protesta in diverse aree. Con alcuni colleghi, anche trasversalmente, anche colleghi del centro-destra, abbiamo portato avanti una battaglia che è stata un po' un braccio di ferro col Ministero dei Trasporti, col MIT e col Ministero degli Interni, perché io ho fatto il sindaco, so bene le difficoltà finanziarie che hanno i comuni, nessuno più di me conosce quanto è complicato tenere testa a tutti gli impegni. Però esiste una legge nazionale che dice che in realtà i proventi, il 50% dei proventi che vengono dalle contravvenzioni, quindi da autovelox e quant'altro, debbono essere reinvestiti, deve essere reinvestito, una quota fissa minima in sicurezza stradale, quindi per manutenere le strade, per installare telecamere, per installare punti di illuminazione, per migliorare la fruibilità, per fare delle rotatorie, al posto dei semafori, eccetera. Ecco, questa cosa qui purtroppo sconta una forte resistenza da parte delle amministrazioni comunali, le quali non necessariamente sempre fanno solo cassa con questa cosa, ma non c'è dubbio che questo vincolo di spesa non è che lo tollerino particolarmente bene. E allora, siccome però c'è una legge che dice che ogni 31 maggio di ogni anno i comuni dovrebbero trasmettere al Ministero i dati di quante contravvenzioni, quante multe sono state fatte, quanti passaggi con l'autovelox, e quanto è stato incassato, e sulla base di questo dovrebbe essere fatta una ripartizione, no? 50-50. Ecco, questa cosa qui spesso non accade. I comuni, diciamo, c'è una certa dimenticanza nel fare questo. E io credo invece che noi dobbiamo insistere, perché questo, ripeto, nel brevissimo periodo un sindaco può viverlo anche come un peso, perché i servizi a cui tenere testa sono tantissimi, ma anche qui dopo qualche anno reinvestire, sentirsi in obbligo di reinvestire una quota consistente, quindi di quella cassa nella viabilità stradale, produce degli effetti positivi. Io dico anche di consenso per quei sindaci che lo fanno, perché i cittadini che vedano una rete stradale efficiente, con tanto, diciamo, di segnaletica verticale e orizzontale, i cittadini apprezzano, apprezzano seriamente quando si fa questo. Certo, l'unica cosa è difficile sempre convincere le persone che hanno un'automobile, dove le case automobilistiche, per dimostrare che l'automobile è fichissima, oramai mettono dei tachimetri che arrivano come minimo a 240 km, uno vede una macchina piccola a 500-240 km all'ora, si impressiona pure, perché la vedi, perché loro economizzano sicuramente, io so che loro fanno una produzione di tachimetri, li mettono su più modelli e quindi capita, poi magari non ci arriva, però è anche vero che quello è un grande incentivo, perché io, che sono un guido a macchina da un po' di anni, mi sono accolto che tutte le automobili hanno questa metà, dove la metà è lo sfruttamento adeguato, diciamo, di velocità della macchina e quindi alla metà tu ci arrivi sempre. Per stare a metà uno è portato a schiacciare il piede sull'ese. Però se tu fai, se tu fai... La metà di 100 è una cosa, la metà di 300 è ben altra cosa. Perché anche questo sembra una stupidaggine, ma proprio leggevo recentemente che le case giocano molto su questo aspetto del tachimetro, che porta praticamente dei numeri molto più alti di quello che la macchina si può permettere, ma quello che la legge ti permette. Perché chiaramente c'è questo fattore psicologico che conta molto, però convengo su quello che tu dicevi all'inizio. Ci sono persone effettivamente che in centri abitati vanno a velocità supersonica. Esattamente. Quello è il non avere coscienza, praticamente, non avere coscienza del pericolo per sé e per gli altri è diventato veramente... Questo però ci introduce il tema della velocità, che ovviamente credo che sia una delle grandi cause, suppongo, no? Sicuramente è la prima causa. È la prima causa, la prima causa. E quindi lì forse è un lavoro anche sulle case costruttrici. Perché il loro marketing è pressante sulla velocità da sempre. Sicuramente sulle case costruttrici c'è un versante di ragionamento che va fatto, su un nuovo modo di tarare anche la velocità nei centri urbani, nelle zone extraurbane e quant'altro, perché molto spesso questo dipende da enti diversi, nel comune è comunale, se poi diventa della città metropolitana sarà la città metropolitana, ovviamente sulla base di parametri, di canoni e quant'altro. Però io credo che su questo, a monte di tutto, ci sia una battaglia culturale che vada fatta. Cioè l'idea che è un po' appunto anche al fondo, ritornando alla domanda originaria dell'istituzione della giornata in memoria dei vittime della strada, perché sì, c'è lì c'è un fattore ricordo, ma io l'ho pensata come elemento di prevenzione, andare nelle scuole, non per fare terrorismo sui ragazzi, terrorismo psicologico, però per metterli di fronte alla realtà, cioè al fatto ad esempio che la velocità in moto, in macchina può essere molto bella se sperimentata, dove è possibile sperimentarla? Cioè negli autodromi, uno pensa di appassionarsi, va in moto e quindi fa, nei posti deputati utilizza la velocità per come va utilizzata. Ascolta, visto che siamo verso la conclusione, volevo chiederti una cosa un po' più divertente, ma questa tendenza che poi noi trasmettiamo da Roma, quindi lo sappiamo, questa tendenza di ridurre il limite di velocità, di portarla a 30 all'ora sulle strade consolari, perché ne conosco diversi, ma è capitato, e dove tu come automobilista sei sempre in difetto, perché le automobili, tutto sommato, forse a 30 all'ora non camminano bene, hanno dei problemi, diciamo, al DH arriva quello che arriva veloce e ti vuole assolutamente bastonare perché vai troppo piano, ma questa tendenza che hanno alcune amministrazioni, compresa quella di Roma, di dire, siccome io le buche non le riparo, non le riparerò per un bel po' di tempo, ti riducono la velocità e quindi io sono a posto. Come la valuto, tu che sei stato un amministratore? Beh, la valuto francamente in modo negativo, ovviamente la domanda è retorica, ma è giusta, è giustissima, perché parliamo di un modo, diciamo, assurdo, no? Di affrontare un problema, cioè uno non lo affronta e fa come lo struzzo, mette la testa sotto la sabbia, quindi si pone al riparo da qualsiasi dubbio mettendo appunto un limite praticamente di, come dire, che non è possibile rispettare, per ovvie ragioni, altrimenti uno è effettivamente fermo con la macchina, diciamo, ecco. Credo questo e molto spesso, molto spesso, in alcune realtà questo accade anche proprio al fine di favorire l'utilizzo dell'autovelox, perché se metti su una di quelle strade il limite troppo basso, magari in un rettilineo in cui la macchina normalmente può andare a 50-60 all'ora e metti il limite a 30, come dire, fai una strage di contravvenzioni e questo fa cassa, ma non produce un effetto positivo sui cittadini, anzi li rende, diciamo, insofferenti nei confronti dell'istituzione pubblica e c'è un aspetto in più che io vorrei però sollevare, perché troppo spesso si pensa che il controllo possa essere affidato a dei mezzi meccanici strumentali, appunto gli autovelox, le telecamere. Noi dobbiamo riprendere un po' quota, ma non è colpa degli agenti di polizia stradale, dei carabinieri, forse, perché purtroppo c'è pure una questione di forze, di limitazione, di numero, eccetera, e noi dobbiamo riprendere un po', diciamo, almeno ritornare ai livelli degli altri grandi paesi europei in termini di controllo stradale, c'è il famoso posto di blocco, la paletta, la paletta, qui si dice patente e libretto, perché c'è un tema di quantità di controlli su strada, il fatto che abbiamo, rischiamo di avere milioni, milioni di macchine che girano senza assicurazione, milioni, l'unico elemento di deterrenza forte è avere una presenza sul territorio, quello che accade mediamente a un cittadino francese, spagnolo o svizzero, di essere normalmente nell'arco di un anno fermato 5-6 volte, mediamente, statisticamente, di avere 5-6 controlli su strada. Da noi può succedere di passare dal 1 gennaio al 31 dicembre senza che mai nessuno ti abbia fermato e questo francamente è un limite, perché favorisce comportamenti illeciti o borderline. Vada, ti ringrazio molto, ringrazio Emiliano Minucci, perché da un tema che apparentemente è secondario, perché questo è uno dei classici temi che diventano prioritarie quando toccano a te, perché molta gente sottovaluta la velocità, sottovaluta gli incidenti. Da un tema di questo tipo, la tua passione con la quale lo hai affrontato ci mette nella condizione di richiamare anche i nostri telespettatori, le persone che ci vedono e fare una riflessione su tutto questo, perché è anche un problema educativo, come dicevi tu, c'è una formazione che bisogna rinforzare e guardare al futuro. Quindi grazie veramente molto per le tue parole, anche il percorso che ci hai raccontato e anche un pensiero che hai sviluppato in questo settore. Grazie a tutti per averci seguito e vi invito a seguire anche le prossime puntate di Persone. Grazie.